Siamo con il campione olimpico di scherma Andrea Baldini dal 10 al 12 febbraio torna al Grand Prix di Fioretto a Torino allora Andrea tu sarai presente non più come atleta ovviamente ma in veste di allenatore per seguire in particolare un atleta. Sì sì non è la prima volta ormai che vesto questi panni ahimè perché insomma la mia carriera di atleta è terminata da un po' quindi da 3-4 anni a questa parte svolgo quella di allenatore da quest'anno però per la prima volta anche da allenatore del club schema Torino e quindi sì saremo impegnati al Grand Prix di Torino al Palalpi Tour il 12 febbraio questa domenica sono le finali speriamo di esserci con appunto con l'atleta che seguo che poi mia moglie Irem Karamete che parteciperà per la nazionale turca e incrociamo le dita. Ovviamente un occhio andrà anche ai tuoi colleghi o ex colleghi italiani in gara chi è secondo te il favorito sia nel femminile sia nel maschile? Ma è chiaro che gli italiani in generale sono favoriti a questa gara sono favoriti insomma un po' in tutte le gare di scherma ora in più quest'anno che vede ancora diciamo la mancanza della nazionale russa che è un po' forse quella l'antagonista della squadra italiana quindi mi aspetto insomma grandi cose sia dal fioretto maschile che femminile ora poi è difficile fare un pronostico un nome da non me lo chiedere perché ce ne sono tanti forti diciamo forse uno su tutti chi sta andando proprio al top Alice Volpi nel femminile e tra i maschi forse direi Marini, Marini è quello più in forma di tutti. Parliamo invece un po' della tua carriera da allenatore come sta andando? Mi piace, mi piace molto è nato un po' a caso anche tra virgolette in quanto quando ho smesso i panni dell'atleta non pensavo inizialmente di intraprendere la carriera da maestro, da allenatore poi per caso perché mia moglie mi ha raggiunto negli Stati Uniti io sono diventato il suo allenatore a quel punto e così da lì è iniziato visto mi è piaciuta molto e niente ho continuato e adesso qui al Club Scherma Torino insomma è un'ottima società quindi sono molto contento di iniziare questo progetto, è un progetto ambizioso, importante e sono contento insomma di farne parte. Allarghiamo allora adesso un po' lo sguardo alla scherma in generale, secondo te come sta andando la scherma italiana in particolare quella piemontese? Sia la scherma piemontese che quella italiana in generale sicuramente è Florida nel senso è comunque la scherma è sempre lo sport che porta più medaglie olimpiche del medagliere italiano da sempre è chiaro che non ci si può adagiare troppo sugli allori perché comunque la scherma diventa sempre di più uno sport globale quindi sempre più nazioni che prima magari non erano al top prendono le misure ingaggiano magari maestri italiani stessi non è al mio caso insomma ma per dire che quindi bisogna sempre guardarsi le spalle ci sono tante tante nazioni che stanno crescendo ma insomma l'Italia è ancora avanti e fa sicuramente ben sperare per le prossime olimpiadi di parigi 24